Si fa che tipo si fa sentire? E non è necessaria il tempo di tensione se vuoi un po' Ma per questo perché? Lei o l'esercizio? C'è un'anima? E poi se ne rendi? E poi guarda la situa che ci piace E poi guarda la situazione E poi guarda la situazione E poi guarda la situazione Stai c'è capito? Cioè magari un po' pieno soruto Senza paura Quindi danno da tutto Faccio un po' allora da un lato la mia tentazione di legare tutto è forte da un lato penso che ci faremo troppo male quindi penso che arriveremo all'inizio di questa rissa con tutti che si alzano dietro tutti che arrivano e finiamo sul loro che fa poco credibile però non ha capito niente fine della prima parte della scelta questo è anche bello questo è anche bello questo anche è bello va bene se ne vedo il primo Edoardo che cerca il marchio bene, questo è bello però questo è anche bello questa lo posso sa però però che cosa succede che ne è fatta in corso vediamo di qua ragazzi dobbiamo capire cosa cosa parla di un ruolo qua perché di conseguenza la cosa poteva essere sedata lì ma tu hai capito quindi quindi ma che fa io ho visto lui che cerca di usare perché a questo punto mi butto nella mischia con lui se poi dopo questa cosa se la vuoi sulla macchina di angelo secondo me io separo le compasse che stanno sulle macchina di allora questo è perché tu l'hai portato via da dietro invece vai dentro come ti metti in mezzo angelo angelo che il marco si è visto e mi devi raccontare che se trova in spalle spalle con lo sguardo veloce e poi separa ognuno dall'altro anche se le risse continuano mi ce l'ha sempre impazzito come è stato va bene ma quando è che ti muovi e si sarà si si no no quello dopo tranquillità e poi di nuovo fatevi vedere intanto questa cosa che ragionate e se no magari lui si piglia capito da una parte e ci troviamo di spalle poi ci giriamo ci guardiamo un attimo e poi ci sediamo se la scena va così e io riesco a raccontare bene che voi siete dalla stessa parte non è importante che voi si dite la vista perché si dava dopo l'importante è che io l'importante è vedere questa qui c'è un'occasione di vedere la bella in azione perché te ti vedevo bene quindi se vedo se vedo voi due adesso angelo lo sa la faccia con il cuore il quadro secondo me il quadro è iniziato